Namaste! In questa pratica ti propongo una breve sequenza per sollecitare, aprire e far fluire meglio l'energia a livello dei polmoni. Per fare questo utilizzeremo l'antica sapienza della medicina tradizionale cinese e andremo a lavorare con i movimenti che faremo sull'apertura del meridiano, quindi del canale energetico del polmone. Questo canale energetico passa nella zona dei polmoni ma non solo, più nello specifico secondo la medicina tradizionale cinese passa nella zona sotto le clavicole vicino alle ascelle e nella parte interna delle nostre braccia fino ad arrivare al pollice e poi posteriormente passa da sotto i glutei nella linea centrale delle nostre gambe per finire nella parte esterna del valleolo. Lavorare su questo meridiano ti permetterà di aprire i polmoni quindi di respirare meglio e soprattutto ti regalerà una maggiore unione con il Qi, ovvero il Prana, l'energia universale. Questo è per la medicina tradizionale cinese la funzionalità del meridiano dei polmoni. C'è inoltre un altro elemento molto importante, lavorare sui polmoni e sul suo meridiano aprendolo e facendo circolare meglio l'energia ti permetterà di contrastare quegli stati di malinconia e tristezza in cui magari possiamo incorrere durante la stagione autunnale. Nel mio programma Choyoga Autumn for You che trovi entrando nella tua area privata all'interno del mio sito, troverai delle pratiche che vanno a stimolare proprio non solo il meridiano del polmone ma anche il meridiano dell'intestino grasso proprio per farti sentire meglio e più in equilibrio durante la stagione autunnale. Quindi se vorrai saperne di più non esitare ad andare sul mio sito e ad abbonarti e quindi entrare nella tua area riservata dove potrai praticare tutte le classi che ho pensato per te per l'autunno. Tuttavia in questa sessione voglio darti un assaggio anche delle sensazioni che puoi avere quando riporti in equilibrio questo meridiano e magari non esitare alla fine della pratica a dirmi nei commenti se effettivamente oltre ad un'apertura migliore del petto e dei polmoni sentirai anche un pochino più di gioia e di allegria. Per questa pratica non servono supporti ma ti raccomando vivamente se le hai a disposizione di utilizzare due blocchi e un bolster per le prime posture che faremo. Tuttavia tutto quello che faremo si può fare anche completamente in piedi quindi noi partiremo con il supporto con il bolster ma se non hai questo tipo di supporti fai tutti i movimenti in piedi con i piedi leggermente più larghi rispetto alla larghezza delle tue anche. Bene cominciamo. Nella nostra prima postura andiamo a sistemare i blocchetti creando una sorta di T sul fondo quindi sulla parte finale del nostro tappetino. Mettiamo un blocchetto alla seconda altezza e uno alla terza per poi posizionarci sopra il nostro bolster. Poi ci gireremo dando le spalle al bolster e avvicinandoci il più possibile. Devi sentire proprio il sacro vicino al tuo supporto. Lentamente srotoliamo la colonna e poggiamo la zona occipitale nella parte più alta del nostro supporto. Se senti che ti devi risistemare fallo tranquillamente. Porta le braccia lungo i fianchi e per le gambe puoi decidere se portare le piante dei piedi a contatto aprendo le ginocchia verso l'esterno entrando in sub tabba da con asana oppure se preferisci puoi anche mantenere le gambe completamente distese con le punte dei piedi che cadono verso l'esterno. Quindi scegli la tua posizione preferita, assicurati che il mento sia direzionato verso l'esterno, gotiti per un attimo le sensazioni che hai in questa posizione e comincia a sentire la zona del petto e dei polmoni aprirsi naturalmente. Ora cominceremo con la nostra sequenza. Io ti guiderò per due ripetizioni per esercizio, ma considera che una volta che avrai imparato questa sequenza puoi fare molte più ripetizioni. Il punto di forza di questa pratica che sbloccherà l'energia dei tuoi polmoni è proprio la ripetizione. Se non riesci attraverso questo video a capire e a sentirne l'efficacia ti invito caldamente a seguirmi nei miei corsi live online dove faccio fare questa pratica ed altre, i miei allievi già la stanno sperimentando e ovviamente abbiamo un'ora di tempo per ogni classe per andare a fare più ripetizioni e a sentire più profondamente gli effetti benefici della pratica. Bene, da qui cominciamo ispirando, portiamo le braccia oltre la testa, allargando per bene le dita delle mani e arrivando con le braccia in linea con le orecchie ed espirando, anche espirando dalla bocca se vuoi, riporti le braccia lungo i fianchi. Ancora una volta ispira e espiro. Prossimo ispiro, portiamo le braccia nuovamente oltre la testa in linea con le orecchie e qui facciamo dei piccoli molleggi verso il basso per 20 ripetizioni. Continua a respirare normalmente, senti le braccia che vanno un pochino più in basso rispetto alla linea delle tue orecchie e senti la pelle delle ascelle e del petto aprirsi e tirare un pochino e ancora per 10, 5, 4, 3, 2, 1 ed espiro, riporto le braccia lungo i fianchi. Al prossimo ispiro, nuovamente riporto le braccia oltre la testa, ma questa volta trattengo il respiro allargando bene le dita delle mie mani, sentendo bene le ascelle rivolte verso il soffitto e mantenendo tuttavia le spalle rilassate e il mento rientrato verso lo sterno e poi espirando ritorno giù. Ancora un'altra volta, inspira, trattieni ed espiro, torno giù. Benissimo, a questo punto sebbene abbiamo fatto meno ripetizioni di quelle che si dovrebbero fare, dovresti percepire i tuoi polmoni più aperti, come un'energia, un pizzicorio proprio al centro dei tuoi polmoni. Ora portiamo le braccia verso l'alto e pieghiamo le braccia a candelabbro con i gomiti che puntano verso il basso. Rilassa i tuoi polsi e cominciamo a fare delle rotazioni con i nostri polsi, mantenendo i gomiti in questo modo sospesi nell'aria. Tenderanno un pochino a colare verso il basso e questo va benissimo perché ti permetterà di aprire il petto. Continua a fare le tue rotazioni, puoi fare le rotazioni dei polsi per circa 30 secondi, ma in questa sequenza per questioni di video faremo 15 secondi da un lato e 15 secondi dall'altro lato. Questo movimento è molto indicato anche per chi soffre di polsi fragili per riscaldare questa articolazione senza ovviamente portarci peso sopra. E poi una volta terminate le circonduzioni anche nell'altro senso di rotazione cominciamo a scrollare le nostre mani come se avrestimo dell'acqua e vogliamo scrollarla di dosso. Portiamo le braccia oltre la testa, poi davanti a noi e poi verso il basso e poi rilasso le braccia a terra e ascolto qui per tre respiri già le bellissime sensazioni che arrivano. Prova a vedere se durante questa mini sequenza arrivano anche delle sensazioni un pochino di gioia, serenità, pacata ma semplice contentezza. Questo è l'effetto dell'energia dei polmoni, di riaprire il meridiano dei polmoni, dei nostri polmoni. Bene, lentamente riportiamo i piedi a terra, ci aiutiamo con le mani, puoi anche rigirarti su di un lato per andare a sederti a gambe incrociate spostandoti un pochino dal tuo supporto. Se la posizione a gambe incrociate non è comoda per te, ripeto, puoi fare anche questo esercizio da in piedi. Qui incrociamo le dita delle mani dietro al sacro e ispirando apriamo per bene il petto sentendo le scapole che si inglobano tra di loro e allontanando il più possibile le mani dal sacro ed ispirando lascio andare e cambio l'incrocio delle mie mani per rifarlo un'altra volta. Sull'inspiro, apro e ispiro, lascio andare. Ancora due volte, ricambia l'incrocio delle mani, ispira, allontana per bene le mani dalla schiena, apri per bene il petto, guarda verso l'alto e ispiro, lascio andare e l'ultima volta. Ispira e ispiro, lascio andare. molto bene, goditi qui qualche respiro, potrai sentire le narici un pochino più aperte, l'aria che fluisce più liberamente e poi lentamente riaprendo gli occhi ci portiamo in piedi. Possiamo spostare i nostri supporti per il momento, se ci danno fastidio non ci occorreranno più e portandoci in piedi con i piedi leggermente più larghi rispetto alla distanza delle tue anche andremo ora a fare questo semplice movimento. Porterai le braccia allungate di fronte a te con i palmi rivolti l'uno verso l'altro, l'altro e ispirando aprirai le braccia mentre ispirando le chiuderai. In questa maniera per dieci volte, inspira, espira e andiamo. gli ultimi 4, 3, 2, 1. Mantieni il movimento ma rivolgi ora i dorsi delle mani tra di loro e continua ad ispirare quando apri ed espirare quando chiudi. E ancora per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilassa pure le tue braccia. Sentirai una certa tensione a livello delle spalle, braccia è normalissimo e adesso andiamo a fare più che un movimento, una sollecitazione che per eccellenza ti porterà ad aprire questo meridiano dei polmoni soprattutto nella parte alta. Puoi andare con la mano aperta o con la mano a pugno, decidi te, se fai il pugno porterai il pollice all'interno e andrai proprio a dare dei colpetti abbastanza importanti, non dobbiamo farci male ma devi sentirli, devi sentirli bene in questa zona qui, quindi siamo sulla linea dell'ascella un pochino più nella parte frontale e diamo proprio dei colpetti. In questo video per motivi di tempo ti invito a farlo insieme a me per 25 volte ma una volta che avrai imparato la sequenza o se vorrai lavorare meglio sull'apertura dell'energia del meridiano del polmone fallo per almeno 50 colpetti. Andiamo insieme per 25 colpi. Ancora 20 gli ultimi 10 3, 2, 1 e rilasso e sentirai tutta la parte destra e il polmone destro come se fossero un pochino più liberi. Andiamo dall'altro lato sempre con la stessa metodologia quindi o mano a pugno o mano aperta e andiamo a percuotere per 25 volte ancora 20 gli ultimi 10 3, 2, 1 e rilascio. Mi raccomando una volta che avrai imparato la sequenza non esitare a farlo per almeno 50 colpetti e sentirai proprio la sensazione più libera a livello dei tuoi polmoni. Ora per sciogliere le spalle ispirando porta le spalle verso le orecchie trattieni per un attimo l'aria sulle spalle e ispiro tutto giù. Ancora una volta ispira e ispiro tutto giù. L'ultima volta ispira e ispiro tutto giù. E infine per andare ad aprire meglio le nostre narici portiamo i polpastrelli degli indici in appoggio premendo alla base delle nostre narici quindi lateralmente nell'angolo proprio esterno inferiore delle nostre narici. Premi con una pressione che sia abbastanza intensa magari da sentire addirittura le pulsazioni sanguigne puoi chiudere gli occhi ovviamente non devi farti male quindi trova il tuo giusto livello però vedi se riesci a sentire addirittura mentre premi grazie a questa intensità le tue pulsazioni sanguigne anche in questo punto si tiene la pressione per 20 secondi e poi si cominciano a fare dei cerchietti in senso orario sempre mantenendo inalterata la pressione sempre per 20 secondi e poi cambi il senso di rotazione fatte le rotazioni in entrambi i sensi riportiamo le braccia lunghe i fianchi e sentiamo le nostre narici più liberi i polmoni più aperti e non sarà un caso se sarai pervasa pervaso da una leggera sensazione di allegria di gioia questi sono gli effetti di un buon prana di un buon ci che circola lungo il tuo meridiano il canale energetico del polmone terminiamo portando su le braccia ispirando portiamo le dita delle mani a contatto tra di loro ed espirando pieghi un pochino le ginocchia e scendi giù con le braccia e con le mani ancora due volte l'ultima e questa era la nostra breve pratica per sbloccare l'energia del polmone un'energia fondamentale che ci unisce con il prana cosmico quindi se questo canale energetico è chiuso facciamo fatica ad entrare energia a far entrare energia forza vitale all'interno del nostro corpo fisico e sottile ed è un meridiano fondamentale da lavorare e sollecitare durante la stagione autunnale fammi sapere sotto nei commenti com'è andata questa pratica se vuoi anche una mini sequenza invece per lavorare sull'altro meridiano dell'autunno che è il meridiano dell'intestino grasso e se ancora non l'hai fatto e vuoi trovare delle pratiche più specifiche per l'autunno non esitare a seguirmi nel mio nuovo programma Chai Yoga Autumn For You che trovi abbonandoti sul mio sito chaiyoga.it oppure non esitare a seguirmi nelle mie prossime lezioni live online sono in partenza i corsi per il prossimo mese e troverai tutti i link per iscriverti ai corsi qui sotto e nelle schede quindi ti aspetto sul tappetino buon autunno e namastah